Un cordiale saluto a tutti e benvenuti a questa nuova puntata podcast. Il tema di oggi è il caso GameStop, un caso alla ribalta internazionale, se ne sta parlando su tutti i quotidiani, sui telegiornali, ovunque si parla di GameStop, un caso del quale si pensa ad una prossima serie tv o ad un film di questo pezzo di storia di Wall Street. Davvero un caso di attenzione internazionale, moltissime persone mi hanno contattato, mi hanno chiesto Enrico cos'è sta succedendo, cos'è questa storia di GameStop, raccontacela, spiegacela e quindi ho deciso di fare una puntata podcast. Ringrazio il mio giovane collaboratore Stefano Chemello, un private assistant che si è occupato di seguire da vicino la vicenda, il quale ha redato anche un interessante approfondimento che potete trovare sui miei canali social piuttosto che sul mio sito internet www.enricomantovanelli.it. Ma veniamo appunto, adentriamoci nella vicenda GameStop. GameStop è una società americana fondata nel 1984 che attraverso negozi fisici che molti di voi sicuramente avranno visto nei centri commerciali piuttosto che nelle grandi città, si occupa della vendita di videogiochi e di tutto il merchandising che ruota attorno al mondo del videogioco. Inizialmente il business di questa società che è quotata in borsa andava davvero bene, perché sapete benissimo che i videogiochi sono molto richiesti e poi però l'avvento di internet, di nuove piattaforme di vendita, della possibilità di acquistare i giochi in formato digitale, ha fatto sì che questo business di vendita attraverso negozi diventasse sempre meno interessante e di conseguenza il business della società è iniziato a scendere e quindi anche le quotazioni in borsa sono iniziate a scendere. E qui entrano in campo i fondi di short selling. Cosa sono questi fondi di short selling che hanno trovato l'interesse e l'attrazione, nello specifico in questo caso sul titolo GameStop? Sono dei grandi gestori, di grandi patrimoni che quindi quando si muovono determinano in maniera significativa il prezzo di domanda offerta che decidono di investire, quindi di andare a acquistare in maniera contraria titoli di società quotate che iniziano a scendere di prezzo. Quindi mentre solitamente una società di gestione degli investitori scelgono e selezionano società con un business sano che distribuiscono dividendi magari legate al mondo della sostenibilità eccetera eccetera, queste invece vanno a scommettere, cioè puntano a guadagnare, a trarre profitto dal ribasso del titolo quotato, non dal rialzo, quindi il contrario. Ma come fanno a scommettere contro un'azienda, cioè che scommettere che un'azienda scenda? Cerco di spiegarvelo in maniera semplice anche se la tematica è piuttosto tecnica. Allora il modo più facile per scommettere a ribasso è quello di farsi imprestare da un intermediario un titolo o un'azione, in questo caso GameStop. Quindi io non ho fisicamente il titolo, non ne sono il proprietario, vado da un intermediario e me lo faccio imprestare. Supponiamo che oggi il titolo GameStop valga 100 euro, l'intermediario me lo impresta, quindi diventa temporaneamente mio e lo vendo in casso 100 euro. Ma siccome non è mio e lo devo restituire, tra l'altro fissandomi anche una data entro il quale lo devo restituire, scommettendo sul ribasso del titolo, appena questo titolo inizia a scendere, continua a scendere, tra l'altro discesa del prezzo aumentata anche dal fatto che si è andato in massa a venderlo e appena il titolo scende, supponiamo arriva a 15 euro, io lo vado a riacquistare o meglio ad acquistare perché non ne ero il proprietario. Quindi me l'hanno imprestato a 100, l'ho venduto subito e mi sono intascato 100 euro, lo vado a riacquistare a 15, quindi spendo 15, 100 meno 15, 85 è il mio profitto. Ecco che io sono andato a guadagnare su un ribasso di un titolo. Questa è la classica operazione di short che viene fatta. Ma cos'è successo di così eclatante questa volta rispetto al solito? Perché di queste operazioni sono all'ordine del giorno. Cosa è successo? Che un gruppo su un social network chiamato Wall Street Beats, nel quale gli utenti fanno scommesse fuori da ogni logica per puro divertimento, hanno deciso di andare contro questi grandi fondi, queste grandi società, una vera e propria guerra tra Davide e contro Golia. Questo gruppo ha iniziato subito a coinvolgere attraverso questo social network tutti i vari utenti e tutti hanno detto basta adesso iniziamo a comprare GameStop. Tutti hanno iniziato a comprare il titolo GameStop, tutti hanno messo dei propri risparmi dentro questo titolo andandolo ad acquistare. Pensate che questo gruppo di utenti attualmente coinvolge circa 8,5 milioni di persone nel mondo e hanno iniziato ad acquistare questo titolo. Questa mossa per il principio base di domande offerte ha fatto schizzare il prezzo alle stelle. E cosa è successo? Che chi aveva scommesso contro l'azienda questi fondi short in attesa che il prezzo continuasse a scendere, ha visto che praticamente il titolo invece è iniziato a salire, quindi hanno iniziato a preoccuparsi e impauriti sono dovuti ricorrere al riacquisto immediato del titolo. Quindi mentre aspettavano di riacquistarlo quando era sempre più basso, ora invece sono dovuti andarlo a riacquistare ad un prezzo più alto. E sempre per la logica di domanda offerta andandolo a riacquistare, quindi andandolo ad acquistare per restituirlo o evitare ulteriori perdite, insieme a tutti gli acquisti che ne derivavano da questi utenti che erano collegati sui social network, che si erano messi d'accordo di acquistare in massa questo titolo, l'acquisto anche da parte appunto di questi fondi che muovono massa ingenti ha fatto ulteriormente alzare il titolo. Poi ovviamente c'è sempre chi si inserisce nell'operazione abbagliato da facili guadagni, quindi tantissime altre persone venendo il titolo GameStop che saliva lo hanno acquistato. Fatto sta che, pensate un po', dal 4 di gennaio quando il titolo valeva 17,25 dollari al 27 gennaio, quindi circa 20 giorni dopo, il prezzo di GameStop è passato da 17,25 dollari a 347 dollari, 20 volte tanto. Ecco, questo è quello che è successo, questo è il tipico esempio di come funziona un'operazione short, ma questa volta abbiamo visto che c'è stata una vera lotta di Davide contro Golia. Oggi la situazione è, diciamo così, altarenante, il prezzo poi ha avuto delle discese, poi delle risalite, attualmente sono scese in campo anche le autorità di vigilanza dei mercati che hanno cercato di ristabilire un po' le regole del gioco, alcune piattaforme dove si poteva fare trading sono state chiuse per evitare questi acquisti senza logica e quindi la cosa non è tornata alla normalità, ma ancora sotto l'occhio del ciclone. Quindi cosa impariamo oggi da questa vicenda? Impariamo che nella battaglia di Davide contro Golia, nella quale storicamente i piccoli investitori non hanno quasi mai vinto contro i colossi finanziari, emerge in maniera sempre più evidente che la borsa sta diventando sempre di più un videogame, usando un parallelismo visto il tema del titolo di oggi, dove investire guardando ai fondamentali delle società quotate, come dicevo prima, una società sana, solida, che produce reddito, è ormai una strategia vintage, cioè quasi vecchia. E questo ci serve ulteriormente per aver chiaro in testa che serve pianificare, serve aver chiaro i propri obiettivi di investimento, serve avere una persona che ti affianca nella gestione a tutto tondo del tuo patrimonio, serve per non farsi abbagliare da guadagni facili. Grazie per l'attenzione, appuntamento a martedì prossimo con un nuovo podcast.